Il tanto lavoro non è una novità, l'energia speciale nell'aria, invece sì, vuoi per i nuovi metodi, vuoi per il tema vicino come non mai alla vita di ogni uomo e donna. Impressioni dal sinodo sulla famiglia riferite ai cronisti a metà giornata, la nona di lavori e altre nove ne mancano. Si parla di vocazione della famiglia secondo rivelazione e magistero, come fino a ieri ne han discusso i 13 gruppi in cui l'assemblea è ripartita. Si raccomanda in specie linguaggio chiaro, che parli di universalità della Chiesa ma sia pure accessibile a tutti e positivo su punti cruciali come l'indissolubilità del matrimonio, che non è un limite semmai un dono. E' questione di far circolare la linfa del Vangelo nel corpo della Chiesa, riferisce con ispirate parole un gruppo di lingua italiana a fronte di una sensibilità tutta concentrata invece sui diritti dell'individuo. Oggetto del dibattere è il cosiddetto instrumentum laboris, testo base che previa revisione, quella a cui appunto si sta lavorando, diventerà relazione finale del sinodo. Perché non includervi nero su bianco? Si chiede un gruppo inglese con pragmatismo tutto anglosassone qualche best practices, cioè buoni esempi concreti di come il Vangelo può attecchire in famiglia ogni giorno. Anche questo è il sinodo, confronto faticoso a volte ma comunque appassionato tra approcci mentali, culture e priorità diverse. In Burkina Faso ad esempio riferisce il cardinale Wedraogo, un problema è la poligamia. E comunque per Nichols di Londra noi occidentali avremmo molto da apprendere dal senso africano del matrimonio come evento comunitario, non solo privato, di due persone. La relazione finale, ripete poi padre Lombardi a scanso ancora di dubbi, sarà consegnata al Papa come base per scrivere se e come lui vorrà un documento a sua firma. E chissà che non abbia indetto il giubileo della misericordia, suggerisce Nichols, proprio per creare il clima giusto per ricevere quegli insegnamenti.